ciao Brewers in un video precedente che potete andare a vedere cliccando qua sopra o seguendo il link in descrizione vi avevo parlato dell'acqua e ho cominciato a fare un discorso sull'acqua per la birrificazione vi avevo spiegato come ci sono una serie di elementi che ci interessano nella nostra acqua e come l'insieme di questi elementi costituisca il cosiddetto profilo dell'acqua da utilizzare per produrre la birra oggi vi spiego un attimo come andare a modificare l'acqua che abbiamo di partenza per ottenere il profilo che ci interessa questa modifica la facciamo andando ad aggiungere delle sostanze e parlo di aggiungere perché è questo che noi faremo andremo sempre ad aggiungere qualcosa perché aggiungere è molto facile molto più difficile soprattutto in ambito casalingo e andare a togliere qualcosa dall'acqua di partenza perché togliere qualcosa ovviamente dall'acqua è molto più complicato per esempio se abbiamo un'acqua molto dura che vogliamo togliere dei bicarbonati si possiamo farla bollire però dobbiamo far bollire per un certo tempo l'acqua i bicarbonati precipiteranno sul fondo della pentola poi dovremmo raffreddarla travasare l'acqua in un'altra pentola lasciando i precipitazione sul fondo per separare insomma viene un lavorone si può fare ma altri elementi praticamente impossibile toglierli quindi noi andremo lavoreremo sempre aggiungendo qualcosa e cosa andremo ad aggiungere ci sono alcune alcune sostanze che vengono utilizzate normalmente quelle che useremo alla fine sono sei qualcuna è possibile trovarla al supermercato qualcuna ce l'avrete già in cucina altre le dovrete comprare dai soliti rivenditori di materiali per un brewing online vendono anche questi sali e io vi consiglio di averli tutti tutti e sei anche se qualcuno potrebbe essere facoltativo perché magari più di una sostanza aggiunge lo stesso elemento però siccome non parliamo mai di elementi puri cioè non avremo il calcio puro il magnesio puro il sodio puro ad aggiungere all'acqua avremo sempre delle sostanze che apportano almeno due elementi diversi quindi non potremo aggiungerne uno senza aggiungere anche l'altro e quindi se ne abbiamo diverse possiamo trovare la combinazione migliore senza avere troppi problemi ecco poi ci sono alcune sostanze anche che useremo molto raramente però insomma se intanto che ce li procuriamo meglio averli tutti e sei e quali sono allora iniziamo dal solfato di calcio che gli americani chiamano gypsum gypsum non so bene come si pronunci e questo aggiunge alla nostra acqua ovviamente solfati e calcio abbiamo poi il magnesio solfato che gli americani chiamano epsum che aggiunge magnesio e anche questo aggiunge solfati e ha questo aspetto di cristalli sembra quasi di plastica abbiamo poi il cloruro di calcio che apporta appunto calcio anche lui e cloruri chiaramente e ha questa forma un po' a scaglie sassolini che vi consiglio di sbriciolare magari con un mortaio con un batti carne insomma di cercare di polverizzarlo prima di mettere nell'acqua perché già fa molta fatica a sciogliersi di per sé se poi ce lo mettete anche in pezzi così grossi non non si scioglierà mai abbiamo poi il rarissimo cloruro di sodio noto anche come sale da cucina quindi normalissimo sale fino l'importante che non sia sale iodato perché lo iodio nella birra magari anche no cloro di sodio che ovviamente aggiunge sodio e cloruri abbiamo poi il bicarbonato di sodio anche questo comunissimo trovate al supermercato gli americani lo chiamano beck in soda questo apporta sodio e bicarbonati e abbiamo poi il bicarbonato di calcio anche in inglese chalk ovvero gesso e questo apporta calcio e bicarbonati anche lui capiterà raramente di usarlo però però capita ecco queste sono fondamentalmente le sostanze che bisogna procurarsi io ritengo in questi vasetti un'altra cosa che bisogna procurarsi molto importante è una bilancia molto precisa perché andremo ovviamente ne andremo a mettere pochi grammi a volte anche meno di un grammo quindi ci servirà una bilancia in grado di pesare con precisione anche i decimi di grammo perché su queste correzioni bisogna avere quel livello di precisione io ho comprato su amazon questa bilancetta cinese costa pochi euro una decina di euro ed è veramente molto precisa vi faccio vedere questa vi parlo della mia ma ce ne sono altri modelli che penso siano equivalenti questa misura fino al centesimo di grammo ed è veramente molto molto precisa ho potuto verificare ci mettete sopra un bicchierino di plastica e poi mettete dentro i vostri i vostri sali li pesate questa è ovviamente indispensabile perché una bilancia normale da cucina ovviamente non riuscirete a pesare dei valori così così precisi la precisione in questo caso è necessaria poi ovviamente una volta che abbiamo tutto dobbiamo anche calcolare quanto ne dovremmo mettere di queste sostanze però di questo parleremo in un altro video per oggi mi fermo qua un saluto a tutti mi raccomando mettete un mi piace se il video è stato interessante e se volete che vada avanti con questo tipo di video come vedete lo sui social network iscrivetevi al canale alla prossima ciao a tutti